Qua mi sembra qualche parte, oddio... Mettemelo la saccoccia, va... Pensava che ci me ne andavamo da Muriano, eh? Eh, questo biker... Che cosa, il parcheggio? Il parcheggio! Hai urtato! Hai urtato contro il tir! E qualcosa, eh? No, c'era la ruota vestita... No, mi bagnate, bagnate! Bussa forti! Bussa forti! Oh! Ma il canale non mi accendi, eh? Che fanno? Che fanno? Andiamo là, forse c'è qualcosa che ci danno. Andiamo là qui! Eh? Penso, no? Tu che dici? Spariamoci! Che stai riprendendo? No! Finisce così! Cosa ti fa pensare che io stai riprendendo? C'è se crede! Anche perché tu devi pensare che... Incominci a avere tue anni, quindi... Andare a immortalare questi momenti... Poi immortalare! Ti è! Dove siamo? Che è? Il rifugio di... Formaggio salumi, ah! È l'ingrasso... Cristof? Mi ricorda come si chiama? L'ingrasso... L'ingrasso... Ecco, c'è il drone... Comunque è stata dura arrivata... Mamma mia! Si è andava a me dura! A me è arrivata a 92 gradi! La temperatura? No, io non hai visto che ci ho messo... Ci ho messo lo scotch... Sì! Il panno... Come si chiama? Scotch carcia sul radiatore, perché sennò non va in temperatura... Un urtolo coperto? Sì! Sì! 150! Eh? Ecco lì! Ho comprato uno... Si imparerebbe... Eh, ho visto! La motoseia non si... Quasi bagna... Ci sei sempre! È proprio qua! È come un motorino 50, capito? È la stessa... C'è qualcosa? Com'è? C'è qualcosa? Com'è? Com'è? Ciao! 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 Sì! Forse! C'è qualcosa! Cazzolini! un pezzettino di pizza è gelata è caldo? è caldo? è sicuro? è sicuro